Prendersi cura del centro è fondamentale, in un mondo soprattutto con mille input, tantissime distrazioni e tante urgenze. Nel mondo occidentale soprattutto ci siamo votati agli obiettivi, senza prendere in considerazione un'altra fondamentale competenza, la consapevolezza. Continuiamo a correre tutti i giorni, in un modo sempre più entropico, spesso non vedendo che non siamo per niente efficaci. In Novaxia lavoriamo con diversi manager, anche di altissimo livello, che non hanno tanto problemi di raggiungere gli obiettivi, ma si lamentano di come li raggiungono. Per raggiungere obiettivi anche non straordinari, come un 5-10% in più di vendita ad esempio, fanno una grande fatica, sono sempre più stanchi e anche i loro team sono sempre più demotivati. E' importante in quel momento prendersi cura del centro, comprendere perché non siamo più efficaci e giriamo a vuoto. Il programma Prenditi cura del centro è disegnato per manager, imprenditori, professionisti e team che vogliono fermarsi e guardarsi dentro, prendere consapevolezza delle loro attività, delle loro energie, delle loro motivazioni e ripartire con più energia e molto più efficacia. Si prende consapevolezza del proprio fisico, fondamentale anche se si lavora al computer tutto il giorno. Ad esempio si prende consapevolezza delle nostre energie e di come usarle al meglio. Spesso in azienda si controllano le pause, quante pause si fanno durante la giornata. In realtà non è tanto importante quanto tempo si passa, ma come. Durante il programma riguardiamo la nostra visione che spesso abbiamo completamente perso di vista, il perché facciamo le cose, quali sono gli obiettivi veramente importanti, ad esempio del team o della singola persona, quali sono le motivazioni, perché ci sentiamo così demotivati, perché siamo così stanchi, cosa ci motiverrebbe di più, come dobbiamo cambiare le nostre attività. Guardiamo anche l'agenda, le pianificazioni, eliminiamo tantissimo durante questo programma, tante attività che sembravano assolutamente necessarie fino al momento prima e che adesso invece ci sembrano una perdita di tempo. Alla fine del programma le persone che lavorano con noi si ritrovano con un'agenda molto più libera ed efficace, da riempire con progetti importanti. Infine prendiamo in considerazione le abitudini mentali di ognuno. Noi tutti abbiamo un dialogo interno che definisce la qualità della nostra vita, del nostro lavoro e anche le qualità delle decisioni che prendiamo ogni giorno. Le facciamo quindi prendere consapevolezza del loro dialogo interno e delle abitudini mentali più efficaci che possono adottare. Prendersi cura del centro è fondamentale in qualsiasi momento della nostra vita. Ci permette di fermarci un attimo, di osservarci, di eliminare tutta la zavorra che abbiamo accumulato e di eliminare addirittura alcuni obiettivi che chissà come mai si sono attaccati a noi e noi pensiamo che siano fondamentali quando invece non ci danno tanto vantaggio. Prendersi cura del centro ci aiuta prima di tutto a essere molto più efficaci nel raggiungere i nostri obiettivi e senza un inutile dispendio di energia mentale, emozionale e fisica.